Allora, eccomi qua. Ciao. Ciao Daniele. Piacere di averti qui. Piacere mio. Non ci possiamo abbracciare. Non ci possiamo abbracciare ma virtualmente con lo sguardo empatico siamo vicini. Questa è una delle cose che più mi fa soffrire, sai, non poter avere un contatto con le persone perché è uno dei modi per comunicare per me. Anzi, forse è il modo principale. Partiamo dall'inizio. Raccontiamo a chiunque voglia intraprendere una carriera come la tua, quindi partendo dalla tua esperienza, come hai cominciato. Quali sono stati i primi passi? Allora, gli impulsi sono partiti da giovanissimo perché ero un bambino, ragazzino e già avevo le idee abbastanza chiare perché ero rimasto affascinato, direi, folgorato dal mezzo radiofonico. Ascoltavo una radio in particolare, che era radio DJ e che rappresentava una rivoluzione perché subito dopo quelle che erano le radio pirata, che però non ho vissuto direttamente perché ero troppo piccolo, avevo visto in televisione la pubblicità di radio DJ fondata da Claudio Cecchetto che portava un linguaggio completamente diverso e soprattutto una musica nuova che suonava proprio come rivoluzionaria per l'epoca. Ero illuminato da mentori come Claudio Cecchetto ovviamente, ma poi tutti gli speaker della sua scuderia, Giovanotti, Fiorello, Amadeus, Linus, Albertino, Nicola Savini, insomma tutta quella parte lì che mi aveva ispirato, io voglio fare quello, da grande voglio fare quello e quindi ho iniziato a emulare il loro percorso giocando, quindi in vacanza, magari in estate, nelle località di montagna in provincia di Bergamo a Clusone c'era una piccola radio locale, io avevo veramente 14 anni e lì c'è stata la mia prima esperienza davanti a un microfono. Senti, il primo che ti schieri in campo in una formazione importante è Claudio Cecchetto, come l'hai incontrato la prima volta? Frequentavo le varie discoteche eccetera eccetera, Claudio Cecchetto faceva una serata al propaganda. Quindi tu vai lì perché sai che lo potresti incontrare? Sì, più che altro era divertente la serata, non sapevo tanto bene, però quella sera in particolare lui era presente e stava però nel privé ed era soprattutto lì in un ambiente che non potevo… Protetto. Protetto, non potevo raggiungere. Non so come, forse perché frequentavo la discoteca spesso eccetera, forse perché avevo un visino pulito, l'occhio bello brillante, quindi guardavo le persone, sono riuscito a districarmi tra la folla e a entrare dentro la recinzione del privé. Ho detto io mi butto, mi butto perché questa è l'occasione della mia vita, io quando mai lo potrò ribeccare così, no? Mi sono buttato, lui era di spalle, c'era la musica molto alta, mi sono avvicinato, non troppo anche perché lui era lì, però mi sono fatto sentire e vicino quasi all'orecchio gli ho detto, Claudio, ciao, piacere, mi chiamo Daniele, io vorrei fare il DJ. Due parole proprio, eh? Lui si è girato verso di me, mi ha guardato e mi ha detto, chiamami domani. E io lì, cioè basta, non volevo rompergli le scatole, più di tanto chiamami domani. Tu avevi avuto il permesso di farlo. Cioè, chiamami domani! Ero in estasi, mi ha detto, chiamami domani, sono andato via, ok, ok, ok. Tutta la notte, felicissimo, insomma, contento. Sono tornato a casa e ho detto, e numero io, come faccio a contattarlo? Come faccio a chiamarlo? No, allora ho detto, certo, allora tutti i giorni, dal giorno successivo per un paio di settimane, ho chiamato Radio Capital, il centralino, e per due settimane mi sono sempre sentito rifiutare. Perché tu le dicevi, Claudio mi vuole incontrare. Sono Daniele Bossari, ieri ho incontrato Claudio, mi ha detto di richiamarlo oggi per fissare un appuntamento. Un attimo solo, Claudio riunione, il giorno dopo. Un attimo solo, Claudio non è ancora arrivato, Claudio ancora non c'è, Claudio ha detto domani. E mi hanno rimbalzato, finché un giorno torno a casa, era tardi comunque da una serata, anche qui, no? L'età era quella lì del divertimento, vivevo ancora con i miei genitori e vedo un bigliettino, era l'alba, un bigliettino scritto da mia madre, che ho scritto, ti ha cercato Pierpaolo Peroni. Pierpaolo Peroni era il braccio destro di Claudio Cecchetto. Io ero, mi ha chiamato Pierpaolo. Allora, incurante dell'orario, visto che era mattina presto, ho alzato il telefono fisso, con quello ancora con i numeri, col cerchio, il disco, eccetera, eccetera. Ho fatto quel numero lì, squillava, squillava, squillava niente. Riprovo, squilla, squilla, squilla. Chi cazzo è? Così, questa è stata la risposta. Dall'oltretomba perché dormiva. Sì, sì, poi lui già ha la voce, tipo la tua. E io, mi scusi, sono Daniele Bossari, ho ricevuto un messaggio, eccetera, chiamami lunedì, lunedì. Boom, e mi ha messo giù. Insomma, abbiamo fissato un appuntamento, per un provino. Quella puntata zero che ho registrato, che avevo già chiara nella mia testa, perché comunque rappresentava un sogno assoluto, l'ho proposta, e quella registrazione è andata in onda come prima puntata di un nuovo format su Radio Capital, si chiamava il Capital 2000, il radio fumetto di Funky Boss. Funky Boss era il mio pseudonimo da rapper, da speaker. Quindi non ti ha battezzato Cecchetto Funky Boss, ti eri già chiamato così? Mi ero chiamato io, e la grande, la grande lezione che ho appreso da Claudio è stata quella di coltivare le passioni, il talento, scoprirlo, e farlo crescere, fiorire, all'interno di ogni singolo artista. Cioè, dopo Claudio, non ho mai più incontrato nessuno in grado di offrirmi quella libertà di azione. Cioè, lui correggeva, ovviamente, ti dava i consigli, ma non snaturava la tua essenza. Dopo di lui sono sempre sceso a compromessi, diciamo così, ho sempre dovuto adattarmi alla confezione, alla scatola, all'involcro. Quindi riconosceva evidentemente un'inclinazione e faceva crescere quella, ti dava la possibilità di svilupparla. Dopodiché, appunto, io lì mi sono ritrovato nuovamente a dover affrontare le cose da solo e sono andato a RTL, contemporaneamente è successa una cosa magica, una congiunzione astrale. Guardavo in tv, era appena nato, era appena arrivato in Italia a un canale che si chiamava MTV. Questo promo, questa pubblicità che ho visto su MTV, appena nata in Italia, diceva così, se già sei DJ, trasformati in VJ. Io lavoravo a RTL, quel messaggio era per me. Ho detto io, eccomi! Allora, con una piccola telecamerina, qui dentro aveva ancora le videocassette, no? Mi ricordo così, proprio mi sono ripreso mentre ero in diretta davanti al microfono RTL. Ciao, ho fatto un disannuncio, poi mi sono presentato, non avevo mezzi per montare, non avevo niente, infatti fa sorridere adesso se ripenso. E anziché spedire la cassetta, sono andato a consegnarla a mano, no? Per cui lì mi sono fatto vedere, mi ricordo questa ragazza, si chiama Daniela Bozza, me lo ricordo ancora, a cui ho consegnato proprio il nastro. Oh, mi raccomando, ci tengo. Lei è super carina, no, non ti preoccupare. Dopo aspettavo la risposta e mi ha richiamato da MTV dicendomi, sei pronto per partire per Londra? E quindi da lì mi sono trasferito a Londra. Perché si girava lì, perché era tutto, l'headquarter era lì. A Camden Town, a Londra, ed è stato ovviamente quello, quell'escalation, cioè radio DJ e MTV, cioè per me è stato il momento più… Non potevi desiderare di più. Io avevo poco più che vent'anni, lavoravo a Londra, facevo il VJ, guadagnavo benissimo, stavo benissimo, dicevo io sto facendo esattamente quello che voglio fare nella vita. Non avevo pensieri di nessun tipo, preoccupazioni, la gioia totale. Era un sole che brillava e che splendeva. Andavi in onda in Italia, quindi registravi a Londra? No, eravamo in diretta. Lo studio era lì a Londra, a Camden Town. In diretta per l'Italia, per la frequenza italiana. Esattamente, noi gli studi erano solo a Londra. Perfetto. Dopo, dopo sono stati costruiti qui a Milano. Local, in dei vari country. Io là non mi rendevo conto di niente, non sapevo perché vivevo a Londra e qui in Italia non capivo cosa… Ah, vivevi a Londra, non andavi là solo per registrare e tornavi tutti i giorni? No, no, tutti i giorni, tutti i giorni. Allora, dopo qualche mese di presenza in televisione costante, sono cominciate ad arrivare le serate, i pomeriggi, in discoteca, i pomeriggi mi ricordo. Quindi prendevo l'aereo da Londra e venivo qua nel weekend per fare pomeriggio e sera sabato, pomeriggio e sera la domenica. Lì mi rendevo conto dell'affetto della gente. Cioè, una marea di ragazzi e ragazze che comunque ti volevano toccare, ti volevano abbracciare, urlavano, eccetera. È lì che ti sei reso conto all'inizio di avere successo. Quindi è stato il tuo primo confronto con un pubblico più largo rispetto a quelli che incrociavi in strada. Sì, in realtà c'è proprio un episodio dove, tornando a casa la prima volta, ancora prima delle serate, ho chiesto, ho detto, vado a farmi un giro in centro a Milano, abitavo, avevo la casa a Milano, e il mio manager, che era appunto Franchino, Tuzio, mi diceva, no, tu non puoi andare a camminare in mezzo alla strada. Ma che cazzo stai dicendo? Scusa la parolaccia, ma figurati se io ci vado, punto e basta. Allora, sono andato da solo anche lì a farmi una passeggiata in centro per fare shopping, e hanno cominciato a riconoscermi delle persone, delle ragazzine, a urlare, a venirmi addosso. Queste persone poi hanno attirato altri curiosi. Si è formato quindi un piccolo gruppo attorno a me, finché si è bloccato completamente tutto Corso Vittorio e Emanuele, sono dovuti arrivare i poliziotti a prendermi, a prelevarmi e a trascinarmi in un negozio, chiudere il negozio, mi ricordo era Body Shop, che non c'è neanche più, a chiudere con la gente che sbatteva, e io mi sono ritrovato senza maglietta, tutto lacerato, strappato con i segni della gente, per l'affetto di queste persone. Lì ho capito, ah, allora sta succedendo qualcosa che non potevo immaginare. E che sensazione provavi, hai provato quel giorno? Chiaramente è stata bella, mi sentivo onnipotente, forse lì c'era… In realtà non c'è mai stato… Io mi sono sempre sentito umile, non so come dire, non è sempre con i piedi per terra, però in quei momenti è difficile, cioè lì decolli, perché comunque ti senti, dici, cosa sta accadendo? Non potevo immaginare, a Londra ovviamente potevo passeggiare tranquillamente. Da MTV io lì ho fatto, grazie a Fracchino, il salto sulla TV generalista. Quindi da MTV passi a Mediaset? O fai le due cose in concomitanza? No, da MTV non si poteva ovviamente, per cui sono andato con l'esclusiva appunto su Mediaset, per fare anche una serie di programmi, ho inanellato una serie di esperienze, una più bella dell'altra, perché comunque facevo un programma di intrattenimento nella fascia pomeridiana, si chiamava Fuego, ed era bellissimo perché mi permetteva di intervistare un sacco di persone, di incontrare un sacco di gente, di viaggiare, di fare una vita meravigliosa. Dopo Fuego? Festival Bar? Festival Bar, Popstar, Superstar, c'è stato amici che poi si chiamava saranno famosi nella prima edizione con Maria De Filippi, insomma è stato proprio un periodo stellare, mi sono ritrovato a fare 3-4 programmi insieme, che per l'epoca voleva dire veramente, cioè se ci penso adesso dico… Ti faccio una domanda materiale perché tu non parli mai di soldi, io questo lo apprezzo molto, però per dare un po' una metrica alle persone, qual è stato il tuo ingaggio più importante in carriera? Sai che io non lo so, adesso ti sto dicendo una cosa, ma visto che sono in assoluta trasparenza e sincerità, è un problema per me. Io non ho mai pensato ai soldi, ma mai vuol dire mai, solo che è un problema, perché non so gestirmi. Diciamo che ho avuto la fortuna di non doverci mai pensare. Quindi hai ascoltato sempre il cuore, il denaro era una conseguenza, ma non era quello che manovrava le scelte. Sì, però non è un bene, perché poi… No, no, io sono come te, quindi ho un fratello che gli chiedevo, ma posso andare in vacanza lì? Sì, sì, vai tranquillo, puoi andare, ma non entravo nel merito perché era un po' come sporcare il mio entusiasmo nei confronti di quello che facevo pensare al denaro. Il denaro è una piacevole conseguenza. Però una domanda te la faccio rispetto ai soldi. Nel fatto che tu sia stato un ragazzo fortunato, hai accantonato per essere sereno? No, no, perché non davo quell'importanza lì e quindi in realtà non sono stato strategico né tantomeno parsimonioso. Nel momento bello scopri tua moglie, la scopri vuol dire che la vedi, se ho letto bene, su un cartellone pubblicitario e quindi sei attratto da questa donna, non solo bella, perché immagino che molte donne belle ti circondavano, ma una donna raffinata, pulita, che probabilmente ti ha dato quell'immagine del ci potrei vedere un futuro insieme già sin dal primo momento. Mi racconti cosa hai visto in lei la prima volta che proprio ti ha ipnotizzato? Io ho visto il cartellone di una pubblicità, vabbè lo possiamo dire, tanto era la birra Peroni, era una bionda per la vita. La campagna di questa pubblicità aveva Filippa come protagonista, per cui io passeggiando per Milano, già maggiorenne, comunque mi sono visto questo cartellone, sono rimasto folgorato dalla bellezza di questa donna che rappresentava questo candore, me lo guardo, sto guardando il cartellone intanto che ce l'ho lì, questi occhi, i capelli biondi, il fisico, diciamo questa sarà la donna della mia vita, questa sarà la donna della mia vita, però non c'era internet, non c'era niente, io non sapevo neanche come andarla a trovare, a cercare, a scriverla, adesso è molto facile, basta mandare un direct, che ne so io, e poi provare a contattare qualcuno. È passato qualche anno e io ho avuto modo di intervistare Filippa per il programma Fuego e immediatamente mi sono ritrovato a farle la corte, ma lei non mi considerava minimamente, non mi ha nemmeno degnato di uno sguardo. Da quel momento ho chiesto ai miei autori però di avere sempre Filippa come ospite, quindi ripetutamente l'ho intervistata, finché un giorno sono riuscito a strapparle il numero di telefono, poi un appuntamento e poi mi sono impuntato e ho cominciato a corteggiarla ma proprio tanto. In modo molto diretto stavolta. Scrivevo, 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 finché lei ha ceduto e quindi ha lasciato il compagno che aveva. Ah ok, questo non lo sapevo. Che tra l'altro era un modello fisicatissimo, bellissimo, no? Questo austriaco, tutto grosso, figo, eccetera. E io invece, mingerlino, italiano, eccetera, sfigatino, però in realtà ce l'ho fatta. Poi nasce il frutto del vostro amore dopo qualche anno. È stato tutto naturale con lei, non c'è stato niente di pianificato, per cui nel momento in cui abbiamo deciso di concepire Stella, proprio eravamo tutte e due presenti. Io ce l'ho, credo, di avere la convinzione di quell'attimo, non possiamo avere la certezza, ma io so che quello è stato il momento in cui sono diventato papà. Che hai sentito una magia, un'energia diversa in quel momento. Alla fine mi girava la testa e dicevo cosa abbiamo fatto, cos'è successo, cos'è successo. Sapevo che quello lì era il momento e di fatti poi dopo, quando ho ricevuto la notizia che sono tornato a casa dal lavoro e lei mi ha fatto vedere quando diventerai papà. Però è stata una gioia infinita, bellissimo. Che strano parlare di me così. È la prima volta, penso. Una donna che ti complementa in modo incredibile e arriva tua figlia, quindi è tutto magico. Ma poi succede qualcosa che ti toglie un po' di sorriso, un po' di serenità. Dunque, fino a quel momento mi sono sempre espresso, mi ero sempre espresso con l'assoluta sincerità che mi contraddistingueva. Cioè ero aperto, sbottonato, felice della vita, gioioso. Non riuscivo a capire perché alcune persone, alcune, alcune, semplicemente alcune, mi arrivavano le voci e dicevano, eh ma finto. Cioè pensavano che io indossassi una maschera o qualcosa del genere, il mio sorriso, le robe. Pensavano che fossi finto. E questa roba dentro di me ha creato subito scompiglio. Non capivo, non capivo. Finché un giorno... Adesso nel libro ho tutto scritto bene perché avevo ricostruito. E' stato anche molto difficile per me. Ma dovevo indicare nel libro, nella storia, una data, un punto di riferimento per dare inizio a questo processo mio di depressione. E l'ho individuato con questo articolo scritto da un famoso critico televisivo, il più famoso critico, il quale mi aveva dedicato una bella paginozza dove mi faceva a pezzi. Io vengo chiamato in agenzia da Franchino, il quale mi avverte, mi dicevi, vieni un attimo qui, mi fa vedere quest'articolo qua. E io mi sento mancare la terra sotto i piedi perché comunque andava anche sul personale, mi faceva a pezzi. All'epoca non c'erano appunto i social, quindi non si perdeva tra migliaia di commenti negativi o come adesso, eccetera. Quel giudizio lì poteva anche influire una carriera, no? Promuoverti oppure bocciarti. In quel caso era una stroncatura per me. Ecco che lì non è stato quello il motivo della mia depressione, certamente, ma lì c'è stata la prima crepa, crack. Qualcosa in me si è rotto. Cioè quella certezza, quella sicurezza, quella naturalezza, quella spontaneità ha cominciato un attimo a vacillare, a tremare e da quel momento, ma lentissimamente, ho cominciato a diventare impostato. Cioè davanti alla telecamera, al microfono, eccetera, non ero più libero me stesso, così raggiante, solare, ma cominciavo a ragionare sull'attitudine, l'atteggiamento che potevo avere per piacere al pubblico e dire ok, questo può piacere, questo non può piacere, questo può dar fastidio, questo no. E quindi a controllarmi di più e a creare delle impalcature, delle sovrastrutture che mi hanno ingabbiato, imprigionato. Non ero più la persona solare di prima. Quindi tu in quel momento dimentichi il consiglio di Cecchetto di essere te stesso, cominci a corazzarti perché pensavi che non andasse più bene così. Quindi le piccole voci che sentivi attraverso il tuo agente o attraverso interposte persone, sommato a quell'articolo del 2002 su 7, ti mandano un po' in crisi. Questo è, dici, è la prima crepa, ma questo poi ti porta da tutt'altra parte. Non riesci più a ritrovare questa tua spensieratezza? No, perché inevitabilmente inizi a essere attratto da questo gorgo, ripeto, lentissimo, per cui stiamo parlando di un processo che è durato anni. Io ho quantificato circa sei anni, ma forse anche qualcosa di più. E piano piano sono scivolato verso il baratro e non avevo più quella solarità, non emanavo più quella sicurezza naturale in me. Avevo l'illusione stupida, infantile, prima, di piacere a tutti. Quando ho capito che le cose non erano così, ho cominciato a perdere la mia sicurezza, piano piano a chiudermi in me stesso, ad avere paura del giudizio degli altri. Paura del giudizio degli altri. Hanno cominciato ad esserci i social, le robe, le storie. Io ancora adesso faccio molta fatica, è una cosa che non ho risolto del tutto, ci sto lavorando, eccetera. Però se 99 mi applaudivano e uno mi fischiava, io sentivo solo quella singola persona lì e andavo giù. È stato faticoso e da lì inizia un po' la nebbia. Quindi da avere un po' paura del giudizio, comincia a isolarti. Comincia a isolarmi, ripeto, anche qui è un processo... Lavoravi nel frattempo che stavi vivendo questo stato d'animo in modo così pieno e profondo. Sì, sì. Allora, tutto questo che ti sto dicendo è un'analisi fatta dopo, cioè passata tutta la tempesta, eccetera, eccetera. Ovviamente all'epoca non mi rendevo conto di nulla, quindi era molto difficile. Io all'esterno cercavo di mantenere una parvenza di normalità, ponendomi sempre con il sorriso, però piano piano diminuivo le mie uscite sociali, la mia vita sociale, mi chiudevo sempre più in me stesso. Ho sempre avuto un fuso orario sballato, quindi andavo a letto sempre la notte molto tardi, ma nel periodo di depressione più acuta io andavo a letto quando si alzava Filippa, per cui ho queste nottate infinite in cui mi autodistruggevo e poi se vuoi te lo racconto e mi ricordo però l'ansia massima la provavo quando andando a letto intorno alle sette meno un quarto così del mattino mi mettevo già con la luce, le cose orribili, stavo sotto le coperte e sentivo pipipipipi che suonava la sveglia di Filippa la quale si alzava per preparare la colazione a Stella, portarla a scuola, eccetera, eccetera. e io ancora nel dormiveglia con questi sensi di colpa che non facevano altro che appesantire ancora di più e peggiorare la mia condizione già fragile. Parliamo della notte. Io personalmente ho un grande problema con il sonno. Quando hai il tuo primo sonno, nove e mezza, dieci, dieci e mezza e lo mandi via, a me capita di ritrovarlo alle cinque del mattino. Quindi per arrivare fino a quel momento anche fino alle sei e oltre mi distruggo fisicamente proprio per essere certo di non avere più energie per andare oltre. Ma la notte, raccontami come la vivi. Innanzitutto l'ho sempre amata. Nello specifico invece quando mi sono ritrovato da solo portavo avanti tantissime ricerche personali per cui mi dedicavo prevalentemente alla lettura. Ho divorato decine, direi anche centinaia vista la mia libreria di testi, saggi su spiritualità, esoterismo, magia, tecnologia, astronomia, tutto quello che riguardava le stelle. Per cui direi che la mia passione per la notte è proprio legata al mondo delle stelle, cioè al trovare e al capire qual è la nostra posizione nell'universo. Passavo la notte così, però poi avevo anche l'esigenza di cercare di... Faccio fatica, perché quello è un momento molto delicato. Cercavo di alleviare un po' quelle sofferenze interiori che provavo, quelle angosce, quelle paure che vengono amplificate durante le ore di oscurità. e lo facevo nel modo più sbagliato, cioè bevendo, cioè cercando l'oblio, provando inizialmente piacere con un cicchettino, con un guischino la sera, eccetera, e poi però rendendomi conto che questa sofferenza, questo dispiacere non passava e quindi avevo necessariamente bisogno di trovare l'oblio, di dimenticarmi di questo malessere interiore. Quando hanno cominciato queste insicurezze a diventare preparicanti, fino al punto in cui avevo tagliato completamente i ponti con gli altri, non rispondendo più al telefono, isolandomi completamente da tutti in quel malessere lì, abbinare l'alcol non era certo la soluzione ideale, però io lo facevo, mi autodistruggevo. Quindi tu intorno all'alcol, un po' come in tutte le cose della tua vita, poi ci hai creato una passione e ne sei diventato un cultore per giustificare il tuo essere compulsivo in questa cosa, un po' come la radio, un po' come in tutte le cose, dove dopo hai cercato di fare ricerca, di approfondire, per diventarne quasi un guru e dire a te stesso che poi non c'era solo il male, ma c'era anche l'altra parte, per trovare magari più un bilanciamento. Sì, era difficilissimo, ti dico che era difficilissimo, perché sebbene capissi intellettualmente che stavo facendo una cosa sbagliata, forse a un certo punto c'era, in questa malinconia, in questa tristezza, in questo continuo pianto, forse c'era anche un pizzico di piacere masochistico, io non lo so, non lo so, però sono arrivato al punto proprio di pensare addirittura di farla finita, ecco. Ecco, sul farla finita c'è una cosa che tu hai scritto che mi ha molto fatto riflettere, perché tu, diciamo che alla morte ci hai pensato veramente, hai valutato l'ipotesi. Certo, è durissimo, è durissimo, il lavoro che ho fatto per anche doverlo riscrivere è veramente ogni volta, riaprire sta ferita, wow, era un po' anche che non raccontavo queste cose, però in ogni caso, può servire, perché questo è quello che ho visto anche facendo le presentazioni prima del lockdown, incontrando tanta gente, raccontare la storia serve perché tanta gente soffre, questo è quello che ho scoperto, e magari non lo racconta per mille motivi, e invece il primo discorso è proprio quello di raccontarsi, aprirsi, e confidarsi. Comunque mi ero trasformato, mi ero trasformato fisicamente, mentalmente, ma tutto parte dalla mente, e quindi comunque ero diventato insomma una specie di larva, irriconoscibile, con gli occhi spenti, sfatto, eccetera, e non lavoravo più, non facevo più niente, in realtà ancora riuscivo a cammuffare questa cosa, cioè, pur non uscendo più, però quelle minime cose che facevo, minime, comunque cercavo di mantenere la maschera, no? Del sorriso così forzato, però mi costava una fatica, arrivavo, tornavo a casa, che poi ogni volta, dopo finito una riunione, una roba, ero distrutto, 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 distrutto. Una sera, la mia famiglia era via, e quindi io mi sono ritrovato da solo, in queste condizioni qui, ed ero chiuso nella mia tana, a fare tutte le mie ricerche, le mie robe, già alterato, ed era scattato l'allarme, di casa, pioveva fuori, era proprio una scena così, e io, cioè, puoi immaginare le angosce, le paranoie che ti arrivano, in quella condizione, con l'allarme che suona, e quindi i ladri, le robe, però, contro, cioè, irrazionalmente, ho detto, vado fuori a vedere se c'è qualcuno, no? Ero da solo in casa, quindi, con una, mi ricordo questa cosa, che mi sono messo sopra, questo, specie di soprabito, così, avevo ancora, avevo anche la bottiglia con me, che mi dava forza, sono uscito per vedere, per controllare, mi sono reso conto che, c'era un cantiere, aperto, e io, sono rimasto magnetizzato da quel cantiere lì, sotto la pioggia, completamente impazzito, alterato, ho scavalcato la recinzione, mi sono arrampicato sull'impalcatura, e mi sono ritrovato in bilico, e in quel momento lì, io pensavo di farla finita, in quel momento lì, nel momento in cui sono scivolato, e ho capito, che quell'ipotesi poteva diventare reale, stiamo parlando di frazioni di secondo, mi sono aggrappato con tutto me stesso, all'impalcatura, ho iniziato a tremare, mi vengono ancora adesso, se ci penso i brividi, ho iniziato a tremare, a dire, che cosa stai facendo, cosa stai facendo, perché lì ho capito che stavo per morire, e sono sceso, mi sono trovato in casa, tutto bagnato, mi sono spogliato, mi sono guardato davanti allo specchio, mi sono guardato negli occhi, e ho cominciato a urlare a me stesso, ero da solo, che cazzo stai facendo, che cazzo stai facendo, cioè, e mi guardavo negli occhi, e lì, in fondo agli occhi, cioè che ero tutto distrutto, lì in fondo, ho captato un barlume, un lumino, ok? Quello ho visto, ho visto un lumino in fondo ai miei occhi, lì c'è stato il click, lì, lo switch, lo switch, lì, è cominciata la mia rinascita, da solo, da solo, fino a quel momento, rifiutavo l'aiuto di chiunque, cominciando da, dai miei cari, da Filippa, mia figlia, ti infastidiva a chiunque, mi infastidiva a chiunque, non volevo più vedere nessuno, e non potevo più sentire nessuno, in quel preciso momento, quando ho rischiato di schiantarmi, in realtà è stato il momento più basso della mia vita, lì ho cominciato a riprendere innanzitutto il respiro, a respirare, cioè a rendermi conto che ero vivo, che l'avevo scampata. Hai cominciato, hai cominciato a sentirti. Ho cominciato a sentirmi, esattamente, e ho cominciato, a mettere in pratica, quello che avevo letto fino a quel momento, ma in maniera spontanea, naturale, non dovevo più ragionare, cioè, a unire, tutte quelle schegge di luce, che si erano infrante, no? Quindi, a mettere insieme, quei ricordi, in cui, mi ritrovavo felice, in cui sapevo di aver vissuto la felicità, per cui, da uno stato di prostrazione totale, mi sono ritrovato invece a riunire queste schegge di luce, ricordandomi, sì, ma io, cioè, io ho una moglie, ho una figlia, ho una bella famiglia, ho un lavoro, una cosa, ho iniziato a mettere... In quel momento lo realizzi veramente? Sì. Queste piccole schegge di luce insieme, hanno ricreato un minimo di fiammette, di speranza dentro di me, in quel momento già era cambiato, cioè, quella notte lì è cambiato tutto, basta, cioè, non ero più la persona di prima. In un istante tutto è cambiato. In un istante, io, ho deciso, io, io e solo io, di salvarmi. Immediatamente ho cominciato a mangiare meglio, a allenarmi, e a quel punto, solo a quel punto, ho accettato l'aiuto degli altri, e quindi cominciando da chi mi tendeva la mano, Filippa, sicuramente Stella Poverina, che è sempre stata con me, dico Poverina, perché ovviamente non sapeva neanche, fino in fondo, tutta la mia cosa, l'ha scoperto solo recentemente, e i genitori, soprattutto lo psicologo. ho capito veramente l'importanza del pensiero. Tu con i tuoi pensieri ti crei la tua realtà, c'è poco da fare, e in quel momento lì, in quella fase, io ho capito veramente che dovevo cominciare a coltivare un altro tipo di mentalità, e devo dire che è funzionato, perché in tempi rapidi sono stato meglio, ma no, innanzitutto subito sono stato meglio, perché mi sono sollevato subito da questo incubo, e questo mi ha portato a cercare altro benessere, non certo il desiderio di ritornare indietro. Visto che il programma si chiama One More Time, voglio sapere adesso questo nuovo giro, quindi questo nuovo round della tua vita felice, quindi da quel momento in poi che succede? Da quel momento in poi le cose hanno cominciato ovviamente ad andare per il verso giusto, per cui non solo una ricostruzione mia, ma anche il ritrovare gli amici, gli amici che avevo io abbandonato, loro non mi avevano abbandonato, perché nel momento in cui mi chiamavano e io non rispondevo, loro mi continuavano a cercare, e io mi infastidivo ancora di più, perché cazzo mi chiami? Lasciami stare, sono nel mio mondo, e invece li ho ritrovati tutti, ho cominciato a chiamare, a chiedere scusa, a dire guardate ero così, ero così, erano tutti carini, li ho ritrovati tutti i miei amici, quindi subito… Siete ripartiti da dove vi siete lasciati, ora parliamo della regina dei sentimenti, l'amore. L'amore è fondamentale, Filippa me l'ha dimostrato, e me l'ha dimostrato in un modo profondissimo, perché pensa a lei che cosa ha dovuto passare, questa donna, ha capito, per sopportarmi, questo è amore. Mi permetti di entrare un po' nella dinamica? Vostra figlia Stella, cosa ha percepito di tutto questo? Stella compie tra poco 17 anni. 17 anni, io ho una figlia di 17 e mezzo, quindi sono coetanea. Sai esattamente cosa vuol dire. Credo che lei abbia sentito la nostra unione, nonostante questo periodo buio, cupo, eccetera, io sono sempre stato presente per lei, per cui non sono, credo, cioè i meriti li do a Filippa, che l'ha veramente cresciuta, e l'ha seguita quotidianamente, però io c'ero, soprattutto per la parte ludica, cioè darle la buonanotte con la lettura di fiabe, o inventando fiabe, o inventando giochi tutti i giorni, anche con le amiche, le domeniche pomeriggio, le cose, le storie, sempre stare vicino, e farle capire che c'è tutto un lato fantastico, meraviglioso di questa esistenza, di un lato proprio magico. Ma se ripensi a tutta questa storia, e alla tua rinascita, qual è la conseguenza positiva? Dunque, innanzitutto il fatto di rinascere, mi ha permesso di avere nuovamente dell'energia, della forza, della lucidità. Per riuscire a ottenere questo benessere, in realtà bisogna seguire una disciplina ferrea, che non significa però un'ingabbiatura, cioè non è che ti mette in una prigione, ma ti libera completamente, perché stai bene subito. Ti dicevo prima le abitudini, per cui il fatto di cambiare, cioè pur rimanendo un godereccio, ma comunque evitare certe cose, perché proprio non le voglio più, non le desidero più, non ho più voglia di disintegrarmi, come facevo prima, capito? Questi benefici, immediatamente provandoli, e capendo nella realtà che sono efficaci, innescano un meccanismo contrario a quello precedente. Cioè se prima era discendente, adesso io mi sto elevando, cioè vado verso l'altro, ho semplicemente cambiato la direzione, con il timone, anziché andare verso l'autodistruzione, ho invertito la rotta. L'esperienza del grande fratello, che io ho fatto nel 2017, mi ha veramente cambiato la vita. Cioè, lì io ho avuto una conferma della rinascita, non so, te lo devo però spiegare, te lo devo analizzare. Sì, mi interessa molto. Ero già nella fase ascendente, cioè dopo la distruzione, già mi stavo ricostruendo, e un giorno mi è arrivata la telefonata di Franchino, il quale mi proponeva di provare il grande fratello. Mi ha fatto questa proposta, di provare a diventare concorrente. Io immediatamente ho detto, no, ma stiamo scherzando, non c'entro niente. Io, così riservato, ci tenevo comunque alla mia privacy, le mie cose, chiuso nei miei mondi, eccetera, espormi 24 ore al giorno davanti alle telecamere, con un gruppo di persone che non conoscevo, bastiamo, non ce la farei, ma non ce la faccio, punto, basta, non è quella la mia strada, non la voglio fare. Ma no, pensaci, pensaci, pensaci. Insomma, mi hanno convinto, ma mi hanno convinto anche Filippa, cercando proprio di arrivare al punto di dire, cioè questa sfida, questo è un drago. Allora mi sono messo nell'ottica del cavaliere, capito? Del cavaliere medievale, che deve andare a affrontare nella caverna il drago per riuscire a sconfiggere i suoi demoni. e nel mio caso i demoni erano tantissimi, perché tutte le insicurezze, le incertezze, io non mi toglievo la maglietta per andare, ad esempio, al mare, io non... mai mi sono spogliato, no? Cioè, proprio, non solo per un senso di pudore, ma di... Perché non ti accettavi. Non mi accettavo, mi facevo cagare, quindi comunque andare lì al mare non mi piaceva dire. e quindi per farti capire quante paranoie avessi. Ho accettato di andare al grande fratello dicendo a Filippa poi, vabbè, preparati nel momento in cui ci siamo salutati, perché tra tre giorni io torno a casa, distrutto, preparati a raccogliere i pezzi, no? Perché figurati, mi disintegrerà questa esperienza. E invece lì io mi sono aperto totalmente, mi sono messo a nudo, ma anche letteralmente. Cioè, non so cosa sia avvenuto dentro la bravura degli autori che noi non vedevamo, ma sentivamo nel confessionale. Anche lo psicologo, giusto? C'è anche la psicologa lì, sì, sì, Piera. Sono stati bravissimi. Io lì mi sono completamente lasciato andare, proprio fregandomi. Le telecamere le vedevo, le sentivo, percepivo la loro presenza, ma proprio sono stato me stesso, tant'è che poi io ho vinto, insomma, alla fine ho vinto. All'interno del grande fratello, c'è stato un momento in cui facevano la linea della vita, che è una specie di giochino che fanno sempre. Cioè, chiamano un concorrente, un partecipante alla volta, ti mettono in una stanza e di fronte c'è una lavagna, quindi con un foglio bianco, che rappresenta la tua vita. Il margine sinistro è il momento della nascita, e il margine destro, il presente. Quindi, dividendo in infanzia, adolescenza, maturità, eccetera, tu dovevi tracciare un grafico della tua esistenza. Mi sono ritrovato all'improvviso, in questa stanza, da solo, con una voce, sembrava quasi un film di fantascienza, che mi guidava, mi faceva delle domande, e ho cominciato, e ho visto, e ho tracciato tutta la mia vita. Di fronte a questa immagine qui, che vedeva i picchi, il successo totale, la celebrità che abbiamo raccontato prima, e poi dopo sprofondare la depressione, fino a quel momento in cui stavo scivolando dall'impalcatura, e poi di nuovo la lenta ripresa, poi dopo la gioia, l'amore infinito per mia figlia, tutto qua, io mi sono commosso, ma ho realizzato il senso del percorso che avevo intrapreso fino a quel momento. lì, solo lì, è stato chiaro il significato di tutto, della mia vita, l'importanza di ogni singola esperienza, di ogni errore, di ogni sbaglio, di ogni sofferenza provata. È stato terapeutico, è stato illuminante, è stato bellissimo, lo consiglio a tutti, fatelo, è un esercizio facilissimo, prendete un foglio, dividetelo così, provate a fare anche voi una retrospettiva della vostra vita, vi inserirà dentro un contesto diverso, vi vedrete da un'angolazione nuova, un punto di vista separato, distaccato, superiore, tant'è che è uscito poi dal grande fratello, mi sono ritrovato inondato dall'affetto delle persone. ma in tutta Italia, veramente è stata una cosa, neanche ai tempi di MTV, lì quando ti raccontavo, è stato incredibile. Allora ho capito, ho sentito lì che dovevo forse a loro qualche cosa, perché mi sentivo in debito, dicevo, ma tutto questo affetto, come faccio io a ricambiarlo? E ho pensato di raccontare questa storia, ed è lì che è nato poi il discorso del libro che poi ho pubblicato, cioè il dire, ok, racconto bene nel dettaglio tutto questo processo, queste tre fasi di cui stiamo parlando adesso, perché sono sicuro che almeno uno ci sarà a cui potrà far bene questa cosa. Beh, è andato oltre ogni aspettativa, cioè il messaggio è stato raccolto da tantissima gente, sono stato inondato da lettere, lettere scritte a mano, dimostrazione di amore, di riconoscenza. Sì, sì, ma di gente che diceva anch'io sto soffrendo, magari le modalità erano diverse, ma... Però si sono immedesimate in quegli scenari, in quelle sensazioni. O avevano amici, parenti, o convivevano con qualcuno che soffriva di depressione, o comunque loro stessi avevano sofferto le insicurezze, le incertezze. Io ho scoperto che la depressione è una cosa che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo e che è la seconda causa di morte nel nostro pianeta. voglio dire, è qualcosa di incomprensibile perché, per chi non ne soffre, eccetera, perché non se ne parla. Allora, liberarsi proprio di questi pesi, di queste zavorre, è un passaggio fondamentale, ti alleggerisci subito. Qui si entra nella routine che volevi sapere, cioè quella disciplina è legata alla meditazione in primo luogo. La meditazione è fondamentale. La meditazione andrebbe insegnata nelle scuole, nelle scuole elementari. Non c'è nessuno che ci insegna come governare le nostre emozioni, come governare i nostri pensieri. Ti insegnano la geografia, la storia, l'italiano, ti insegnano tantissime cose che sono utilissime, ma nessuno ti insegna una metodologia per capire quell'universo interiore che vivi che è assolutamente reale tanto quanto quello esteriore. Lì capisci che la tua realtà è una proiezione dei tuoi pensieri, di quello che emani, comprese tutte le difficoltà, compresi tutti i casini, comprese tutte le sfighe che ti possono capitare. Tutto quanto è un riflesso della tua mente. Cioè, detta così, però, è una frase che può sembrare senza senso, perché uno dice sì, valla a dire a chi deve pagare. Certo, lo so perfettamente il mutuo, la casa, chi ha una famiglia, chi ha difficoltà, chi non riesce. È proprio questo il discorso, che non ci dedichiamo mai a una lettura della nostra interiorità. Non abbiamo tempo, non c'è modo, e quindi non lo scopriremo questa disciplina, questa interiorità. Nel ringraziarti ti lascerò da solo un minuto, hai parlato di obiettivi, che gli obiettivi vanno perseguiti. Sì. Io ti do un foglio bianco, mi piacerebbe che tu su questo foglio scrivessi un tuo obiettivo. Certo. Tra un anno, a partire da oggi, io ti spedirò questa lettera, la scrivi a te stesso, io non leggerò, e vorrei che scrivessi a te stesso un obiettivo, anche due, come vuoi. E tra un anno, esattamente a partire da oggi, riceverai questa cosa. Ok. Quindi ti lascio, ti lascio questo. Però mi devi dare due minuti. Te ne do anche dieci, quindi esco dalla stanza e ti dico una cosa di cuore, io sono molto fiero di te e so che non ami complimenti, normalmente chi è molto duro con se stesso non li ama molto, però mi hai riempito il cuore, mi hai appassionato, ti ringrazio, è stato molto bello. Ti vorrei abbracciare. È stata una buona terapia, ma infatti ci rivediamo per farlo, senza mascherina. Ti vorrei abbracciare. Grazie. 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 Grazie.